Ad Elice, nel cuore dell'entroterra pescarese, ha sede Cascina Bruno, una realtà a carattere familiare che cura i propri oliveti e i propri oli con lavoro certosino. L'olio extravergine di oliva prodotto dall'azienda è ottenuto esclusivamente dalle olive raccolte in azienda. Gli oliveti sono situati sulle colline elicesi, in provincia di Pescara, dove le condizioni climatiche permettono di ottenere un prodotto di particolare pregio. Le olive vengono raccolte a mano e la loro molitura avviene in giornata. Così facendo, le drupe sono avviate al processo di trasformazione intatte e nel miglior stato di conservazione per avere sempre grandi oli. L'olio viene estratto utilizzando un frantoio continuo, a due fasi, moderno e tecnologico, che garantisce rapidità di lavorazione a basse temperature e di igiene assoluta. Infine, il confezionamento, esclusivamente in vetro scuro per le bottiglie e in alluminio per le lattine, assicura che le proprietà organolettiche dei loro oli si conservino nel tempo così da essere apprezzate a lungo sulle tavole. Cascina Bruno è costituita da 15 ettari di terreno, 1700 piante circa e 6 varietà di olivo coltivate. La Cascina Bruno si trova quindi nel comune di Elice, da Ilex Ilicis, che vuol dire Elce, Leccio, in riferimento ai lecci che un tempo rivestivano le colline della zona, facente parte della provincia di Pescara in Abruzzo. Elice è attestata nelle fonti sin dal 1000. Nel 1051 il monastero benedettino di Santa Maria di Picciano aveva, per donazione di Bernardo di Penne, una cella detta di San Martino nel castello dell'Elice. Nel 1059 i fratelli Longobardi Tezzone e Adelberto, figli di Berteramo, donarono la pertinenza della Ilice al monastero di Santa Maria di Picciano. Il 10 luglio 1084, nel castello di Loreto, il conte normanno Guglielmo Tassone donò il castello di Elice con uomini, terreni, edifici e pertinenze all'abbazia di San Giovanni in Venere. Il castello, che nel 1168 aveva 264 abitanti, quale possesso dell'abbazia di San Giovanni in Venere, era tenuto dal milite Guilelmo di Camarda. Venne confermato il 16 giugno 1176 dal Papa e il 1 marzo 1195 dall'imperatore Enrico VI. Nel 1279 era feudatario di Elice Govitosa di Raiano e nel 1284 erano signori del castello Bertoldo e Pietro Stefano di Roma, che in tale anno concessero all'università, ossia l'allora comune di Elice di tenere il mercato tutti i lunedì, purché non fosse di pregiudizio ai vicini e di dispendio per lo Stato. Nel 1316 Elice era posseduta da Ingardo di Rillana, che aveva anche la terza parte di Cellino. Nel 1388 fu invece feudo di Antonio Brunforte, che l'aveva ricevuto con l'assenso di Carlo III di Durazzo. Finita poi nelle mani di Giosia Acquaviva, il 31 ottobre 1438 la regina Giovanna II ordinò che fosse restituita alla città di Penne, che l'aveva acquistata da Petruzio de Rigerano. Nel 1461 il re Ferrante I d'Aragona concesse ai fratelli Baldassarre, Melchiorre, Gaspare ed Agamennone Castiglione, e ai loro eredi e successori, in perpetuum il mero e misto impero e la giurisdizione criminale nei loro feudi di Elice, Vestea e Castiglione. I Castiglione tennero in feudo Elice sino al 1806, quando furono emanate le leggi eversive della feudalità. Infine, anticamente esisteva in Elice una rinomata conceria di pelli, fondata nel 1819 da Tommaso Antonio Impacciatore, che estendeva il suo commercio sino alla Dalmazia, e successivamente Pietro Baroni, che fu sindaco di Elice sino al 1893, impiantò nei locali del castello una fabbrica di terracotte e di ceramiche.